Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo piccolo tutorial ti spiego come salvare le proprie cartelle all'accesso rapido ovviamente se non hai voglia di andare su un tuo disco e cliccare tipo 20 cartelle per arrivare alla tua cartella dove hai salvato un tuo documento puoi direttamente salvare questa cartella all'accesso rapido quindi in questo caso se io vado su esplora risorse ovviamente io non ho censurato nulla perché è tutto un progetto sul mio canale youtube e se io per esempio vado su una cartella qualsiasi tipo questa qua, clicco sopra c'è scritto rimuvi da accesso rapido io ovviamente ho messo questa cartella del gioco at the ring, l'ho messa sull'accesso rapido quindi in questo caso se io vado su musica, clicco tasto destro sopra c'è scritto aggiungi ad accesso rapido aggiungo così questa cartella ed eccola qua e qui c'è la musica tutto qua quindi se questo piccolo tutorial ti è stato utilissimo su come salvare le proprie cartelle all'accesso rapido iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo tutorial ciao 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 ciao